Benvenuti su VeggieGames iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita Ciao a tutti e bentornati su VeggieGames con Yaguzza Black Dragon ci siamo svegliati su una panchina dopo la festa di capodanno lui è andato a bere e si è ritrovato su questa panchina e penso sia stato il suo capo l'ha chiamato in realtà è due giorni che non gioco quindi sinceramente non mi ricordo che ha chiamato c'è una zonzara che mi circola sul piede dovrei schiacciarla ma non sono così rapido non sono un gigante che schiaccia una persona comunque a parte questo allora ora 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 vediamo un po' se mi ricordo uno più l'altro no 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 se mi ricordo quali la la un po' di un figlio a hold up what family from are cow and don't you forget it oh yeah asshole how about you don't forget your place oh yeah and who the fuck are you this is a cocky family dumbass you oh yeah yeah Succa! 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 Come on! Succa! 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 Oh, no! That's how you do it! I feel the stats going up! Fuck you! You're gonna regret this! What the hell was that about? Probably nothing. We've always got some kind of beef with the Sakaki going on. Oh shit, that took a while. Gotta head into the office. It's me, Ichiban. Boss? Good morning! Oh, Ichi. Have a seat. Sir! After motorway? Stop. Just sit down. Uh, sure. What? 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 Grazie a tutti. 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 It will be considered mutiny. We'll be expelled from the Tojo clan and our tiny family will go up in smoke. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, no, 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 no... This is my chance to finally repay my debt to you, after everything you've done for me. Let them lock me up for 10 or 20 years, I'd be happy to do it for you. It will be... It will be... Happy birthday, Aniki. Happy birthday, Aniki. Thanks. Thanks. Yeah, yeah. Yeah. Il nuovo anno si è iniziato e ti ha già lavorato come un uomo. Non ho freddo per la Yakuza. Ci lavoriamo 365 giorni al anno. Quindi ti fai lavorare tutti i giorni? Mi anche. Cosa stai ora? Uh, 20. Se volete veramente sapere. Cosa? Quindi in 10 anni, tu sarai 30. In 20, tu sarai 40. Great math, dude. What are you getting at? Just eat well and live life to the fullest, man. Uh, you feeling okay? I'll call you later. All right. All right. All right. All right. ok No, no, no. Un'altra cosa! Certo! Un'altra città! Un'altra città! Mi sembra di dire questo, Ichi, ma tu è stato banito dalla famiglia l'ultima settimana. Cosa? Mi sono... banito? Se fosse da una famiglia outside del clan, io potrebbe solo diria di te. Ma questo, non solo era Tōjo, ma era direttamente a la famiglia ma essere banito? Significa che non posso mai tornare? Non ti preoccupi, ciò di lavorare a questo. Ciò di avere tutto attraverso l'ultima volta che che sei fuori. Grazie, boss! E magari banito funziona nella nostra famiglia. La giustizia sarà più facile ora che sei solo un civile. Deve fare il loro peggio, io potrei fare qualche anno in can. Quasi sono una cosa che sono più facile. a una cosa ogni ultimo momento, tutti? Quando si chiama un pollo? Per sicuramente. C'è abbastanza di stagione. Voi tornare a presto! No, 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 no. No, 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 no. Va bene, secondo me inizia l'altro capitolo. Quindi direi di salutarci qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per non perderti aiutati. Ciao a tutti.